Inammissibile. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dai lavoratori interinali dell'AMTAB, l'azienda del trasporto pubblico urbano di Bari, ritenendolo inammissibile. Lo scorso 23 settembre gli interinali che da anni lavorano per l'AMTAB hanno partecipato ad una selezione che li avrebbe inseriti in una graduatoria di 400 dipendenti alla quale l'azienda stessa avrebbe attinto ogni qual volta ne avesse avuto bisogno. Per 42 degli 80 interinali che hanno partecipato alla selezione non è andata bene, infatti nonostante conoscessero in anticipo le risposte delle prove e godessero di una corsia preferenziale lavorando già per l'AMTAB che permetteva loro un punteggio maggiore e avessero dalla loro 5 delibere del Consiglio Comunale con le quali si prevedeva la stabilizzazione anche dei precari della municipalizzata, sono stati ritenuti in idonei. Di qui il ricorso al TAR presentato per 35 di loro dagli avvocati Vito Petruzzelli e Michele Mongelli, ricorso che però ha dato ragione all'AMTAB. Cosa succede ora? Selezione va bene, approvata, ritenuta ammissibile da parte del TAR, questi lavoratori? Noi continueremo a utilizzare questi lavoratori, assolutamente. Per quanto riguarda l'azienda, l'amministrazione dell'azienda ha ritenuto la selezione regolare al punto tale che ha nominato le commissioni per l'espetamento della prova che dicevo prima, è una commissione tutta esterna e in realtà sono due perché c'è il concorso per gli operatori di esercizio e quella per gli operatori di manutenzione, formato da due vice prefetti, due funzionari della Polstrada e due funzionari del Comune di Bari. È una selezione che è stata totalmente affidata all'esterno.